pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati siamo nella seconda domenica di pasqua domenica della divina misericordia gesù manifestandosi a santa faustina covalsca chiese proprio di celebrare questa domenica la sua misericordia affinché tutti potessero ritornare con fiducia a lui e sperimentare il suo perdono e la sua pace alla luce di ciò entriamo nel testo di questa domenica dal quale coglieremo in particolare due spunti uno l'incontro con il signore risorto nella comunità due l'esperienza del suo perdono attraverso il sacramento della riconciliazione primo punto l'incontro con il signore risorto nella comunità facciamoci caso due manifestazioni di gesù ambe due la domenica mattina ambe due mentre i discepoli sono riuniti insieme nel cenacolo il messaggio è chiaro dove si rende presente il signore risorto nella comunità riunita che celebra insieme la sua presenza sullo sfondo abbiamo l'eucaristia la santa messa vedete dio prende sul serio la nostra natura umana non solo si è fatto uomo duemila anni fa ma ancora oggi continua a rendersi presente in modo da incontrarci e rendersi anche percepibile per mezzo dei sensi san leone magno diceva tutto ciò che era nella persona di cristo cristo lo ha trasferito nei sacramenti così che noi lì possiamo continuare ad incontrarlo e a fruire i benefici della sua salvezza perciò san tommaso per poter incontrare gesù risorto dopo averlo cercato in vano da solo dovrà mettersi nella condizione di poterlo incontrare essere insieme ai discepoli riuniti insieme la domenica nel cenacolo gesù dunque entra a porte chiuse si manifesta ai suoi e dice pace a voi mostra le piaghe gloriose in modo tale che lo riconoscano è davvero lui il crocifisso risorto e i discepoli gioirono al vederlo questa parola questa esperienza accolta con fede suscita gioia anche nel nostro cuore e ravviva la nostra fede in cristo ad un certo punto gesù notiamo soffia su di loro non è perché facesse caldo perché si era un po stufato della loro incredulità ma è un segno soffia e dice ricevete lo spirito santo sta operando una nuova creazione qui abbiamo quella che gli studiosi chiamano la pentecoste giovannea gesù che soffia infonde nella comunità nascente lo spirito di dio sullo sfondo abbiamo qui alcuni testi dell'antico testamento uno su tutti libro della genesi dio che insuffla nell'uomo l'alito di vita gesù sta operando una nuova creazione e invia la chiesa come il padre ha mandato me così io mando voi ricevete lo spirito santo a coloro ai quali perdonerete i peccati saranno perdonati a coloro a cui non li perdonerete resteranno non perdonati gesù manda la chiesa perché prosegua la sua opera di salvezza riconciliare l'umanità con dio questo sacramentalmente avviene anzitutto nel battesimo nel battesimo infatti viene cancellato il peccato originale quindi viene tolta quella condizione di lontananza e separazione da dio e la persona riconciliata con dio fruisce della sua vita divina viene infuso lo spirito santo nell'anima successivamente questa esperienza si rinnova nel sacramento della confessione nella confessione veniamo riconciliati con dio viene cancellata la colpa guarita profondamente la nostra anima e qui entriamo nel secondo punto l'esperienza del perdono queste parole di gesù coloro a cui perdonerete o non perdonerete come vanno intese forse che i discepoli si possono arrogare un diritto arbitrario di perdonare o meno no queste parole mirano a farci prendere consapevolezza che il perdono di dio è mediato attraverso la chiesa passa attraverso i fratelli nella fede e dunque a farci mettere in cammino per accoglierlo nuovamente questo può avvenire in diversi gradi e forme nelle relazioni comunitarie san giacomo parla del confessare gli uni gli altri peccati quindi di aprire il cuore con gli altri in modo da fare esperienza di misericordia ma a livello sacramentale il perdono di dio passa attraverso il suo ministro nel sacramento della riconciliazione cerchiamo di capire quando noi pecchiamo tradiamo il signore roviniamo rompiamo l'alleanza con lui ci stacchiamo da lui lui continua ad amarci a offrirci il suo perdono siamo noi che gli abbiamo voltato le spalle abbiamo rotto l'amicizia l'intimità con lui abbiamo dunque bisogno di vivere un cammino di ritorno rientrare in noi stessi prendere consapevolezza del male commesso e ritornare a dio chiedendo il suo perdono riconciliandoci con lui a questo punto ci farà bene chiederci ma perché il signore ha voluto proprio il sacramento della riconciliazione non era più facile una confessione diretta versione you and me della serie mi confesso direttamente con dio no miei cari anzitutto abbiamo bisogno di saperci perdonati di sentircelo proprio dire quel io ti assolvo è preziosissimo è la certezza di essere stati nuovamente accolti e perdonati da dio secondo imparare a chiamare per nome davanti a qualcuno i nostri peccati ci aiuta a crescere nella libertà e nella responsabilità inoltre ci fa crescere nell'umiltà ci spoglia di tanta arroganza e ci fa sentire scoprire poveri eppure teneramente amati terzo abbiamo bisogno di avere qualcuno che ci dia una parola che ci aiuti nel nostro cammino di conversione e ci indichi anche attraverso la penitenza come poter riparare al male fatto o comunque lavorare su noi stessi per crescere e diventare uomini e donne migliori non lasciamoci dunque frenare dalla paura del giudizio il sacerdote è un fratello è lì per raccoglierci ma se sentisse questo che pensa pensa che sei un povero peccatore una povera peccatrice come lui ed è lì per far passare la tenerezza di dio ma se poi pensasse a quello che io ho confessato ma tranquillo che dopo la confessione già un sacerdote si è dimenticato tutto sì ma io sento vergogna ma fa bene attraversare la vergogna la vergogna dovremmo sentirla quando pecchiamo ma dopo il peccato attraversarla è la piccola strettoia per giungere alla libertà e non serve rimandare all'infinito serve attraversarla per ritrovare pace inoltre per capire sempre meglio il perché del sacramento della confessione dobbiamo tener conto di cosa comporti il peccato il peccato infatti comporta che noi non soltanto abbiamo ferito o infranto l'alleanza la relazione profonda con dio non soltanto ci siamo fatti e abbiamo fatto del male ma abbiamo anche ferito indebolito la chiesa noi per mezzo del battesimo siamo membra di un solo corpo ora con il peccato io sono un membro malato infliggo una ferita anche agli altri le conseguenze del mio peccato in un modo o in un altro dovranno piangersele anche gli altri allora quando io vado a confessare i miei peccati attraverso il sacerdote non soltanto passa il perdono di dio ma ricevo anche il perdono della chiesa che ho screditato e indebolito con la mia cattiva testimonianza qui c'è qualcosa di profondo anche per chi vive il lutto persone a cui sono morti cari amici portano nel cuore sensi di colpa più o meno reali per occasioni perse parole non dette gesti d'amore omessi quanto è bello sapere che quando io vado a confessarmi in quel momento non soltanto sto incontrando gesù ma in lui anche tutta la chiesa e quando passa il perdono di dio attraverso il sacerdote sta passando anche il perdono di quelle persone care che con il mio peccato ho ferito che è bello sapere che in quel momento mi sto riconciliando non solo con dio ma anche con i miei cari che sono in lui in conclusione miei cari la confessione è esperienza di risurrezione vedete nel cuore di tutti c'è la nostalgia di dio della libertà della sua pace dopo il peccato c'è un rimorso o comunque un vago senso di colpa il male è male e fa male in ogni sua forma in fondo al cuore c'è una parte di noi che sanguina che lacrima che ha bisogno di sperimentare quel perdono che la restituisca alla libertà e a se stessa celebrare la pasqua significa fare un passaggio sant'ambrogio diceva dalla colpa al perdono la grandezza del messaggio pasquale è proprio questa non c'è colpa che non possa essere perdonata non c'è senso di colpa vero o falso da cui non si possa uscire san paolo in romani 8 1 ci ha detto non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in cristo gesù se il vostro cuore vi rimprovera sappiate che dio è più grande lasciamoci dunque riconciliare con dio per ritrovare in lui la più vera e profonda pace che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti